Buona serata a tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale. Se vi va lasciate un mi piace al video dopo averlo visto, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali il prossimo allenatore della Juventus per la stagione 2024-2025 sarà Antonio Conte o Tiago Motta. Entrambe le scelte vogliono dire solo una cosa, finalmente ci stiamo per liberare Di Allegri. È un qualcosa vista come la liberazione del popolo juventino, un cambio che noi tifosi juventini veramente aspettiamo come l'acqua nel deserto. Non vediamo l'ora di entusiasmarci per una conferenza stampa, per un qualsiasi cosa che porti alla figura di un nuovo allenatore, che si distacchi da quello che è stato ed è tuttora Massimiliano Allegri. Una figura ingombrante, scomoda, fastidiosa. Basta, non ce la facciamo più. In questo video quindi, visto che ad oggi appunto sembrano queste le due opzioni più probabili, vorrei soffermarmi su quelli che sono i pro e i contro di entrambi gli allenatori, di entrambe le possibili scelte. Vediamo se potranno entrare in gioco altri candidati, mancano ancora sette gare alla fine del campionato e c'è anche una Coppa Italia di mezzo. la stagione non è ancora conclusa, quindi mi aspetto che le notizie del nuovo allenatore, la notizia del nuovo allenatore, soprattutto lato Juve, arrivi a stagione conclusa. Forse, come paventano alcuni giornali, si arriverà ad annunciare il nuovo allenatore, o quantomeno l'esonero o la fine dell'avventura di Allegri sulla panchina bianconera, una volta raggiunta la qualificazione in Champions League. Ma non mi stupirebbe se si attendesse proprio l'ultima partita. Detto ciò, cominciamo con Antonio Conte, i pro del ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Diciamo che il vantaggio numero uno è che Conte conosce benissimo l'ambiente Juve, essendo stato giocatore, capitano, ha già allenato per tre anni, e quindi per Conte sarebbe un ritorno a casa. Conte di sicuro è Juventino dentro e quindi questo, diciamo, può essere un vantaggio per entrare in un gruppo subito a gamba tesa, non avrebbe bisogno di ambientarsi. Punto numero due, e il secondo vantaggio, è che Conte è un motivatore nato. Per la situazione della Juventus, per i giocatori che ha la Juventus, un allenatore come Conte potrebbe essere l'elettroshock necessario per risvegliare gli animi, per tirar fuori qualcosa in più da tutti i giocatori, e soprattutto per far rendere una rosa che molti reputano scarsa, ma che scarsa non è. E chiaramente l'anno prossimo ci saranno degli altri acquisti, e Conte per il campionato italiano è sicuramente l'uomo più indicato. Punto numero tre, Antonio Conte ha dichiarato che il suo sogno, il suo obiettivo è quello di vincere la Champions League con una squadra di club. Devo aggiungere qualcosa? E' quello che tutti i tifosi della Juventus sperano e vogliono. Sappiamo benissimo che l'anno prossimo è utopia, però quantomeno dirlo, quantomeno crederci, quantomeno provarci. Iniziare un percorso atto A. E' vero che i risultati di Conte in ambito europeo sono stati abbastanza deludenti, però che non sia un matrimonio che possa matchare bene anche con questo obiettivo comune. Anche se, sinceramente, se dovessero annunciare Conte, non mi aspetterei un Conte che in conferenza stampa vada a dire noi puntiamo la Champions, mi aspetterei un Conte che, come sempre, mette le mani avanti, che le altre squadre in Europa sono nettamente più forti, la solita, diciamo, tiritera che sappiamo benissimo. Quindi questo, comunque, è il terzo punto a favore. Il quarto punto a favore del ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera è che è una figura che unirebbe il tifo. Nonostante molti adesso sono contrari, però Conte bastano due o tre conferenze stampe, due o tre, diciamo, incitamenti a bordo campo dei suoi, due o tre esultanze ai gol passionali, e io sono convinto che il tifoso juventino, anche quello, diciamo, un po' più infastidito dal suo ritorno, tornerebbe ad amarlo. Magari non come prima, perché comunque lo scotto di essere andato all'Inter è ancora forte, e anche per me lo è, però se dopo fa parlare il campo, secondo me Conte tornerebbe nei cuori dei bianconeri, dei tifosi bianconeri. E il quinto punto, non so se sia un vantaggio, però sarebbe il suo sistema di gioco, o il suo modo di far giocare le squadre. Conte è uno che studia, è uno che migliora, è uno che è sempre all'avanguardia, alla ricerca di evolversi, anche sul piano del gioco. Quindi, secondo me, anche se non sappiamo ancora che Juventus è in mente Conte, da quel punto di vista lì potremmo trovare un Conte cresciuto, e con la volontà di portare un qualcosa di nuovo, non il solito 4-2-4, il 3-5-2, o comunque uno schema così. Secondo me Conte potrebbe anche innovare. Quindi questi, diciamo, sono i cinque pro del passaggio di Conte alla Juventus. Ora andiamo su Tiago Motta, i pro di Tiago Motta. I pro di Tiago Motta sono, secondo me, il primo è un allenatore giovane, un allenatore che sarebbe alla sua prima esperienza di una big, ed è un allenatore che ha dimostrato a Bologna di saper giocare veramente un bel calcio, e di non aver paura di parlare di calcio, e di mettere in campo una squadra che giochi a testa alta. Per citare Giampaolo e Mila, anche se diciamo un brutto esempio. Quindi ecco, Tiago Motta, secondo me, il primo pro è questo, è uno che fa giocare a calcio la sua squadra. Il secondo pro di Tiago Motta è che, appunto, sarebbe alla prima esperienza su una panchina importante, e quindi io sono convinto che per lui sarebbe un treno clamoroso da prendere, la Juventus è sempre la Juventus, nonostante Bologna quest'anno stia facendo qualcosa di fenomenale. Però, insomma, per un allenatore penso che siano dei treni che passano poche volte in una carriera. Il terzo pro di Tiago Motta la Juvec sarebbe un volto nuovo, sarebbe un volto nuovo, sarebbe una figura diversa rispetto a Conte, e anche per noi tifosi sarebbe proprio un foglio bianco da conoscere, e quindi questo diventa automaticamente un pro per lui, ma anche per noi, perché sarebbe proprio una storia da iniziare e tutta da scrivere. E questo punto, secondo me, racchiude tanti punti di forza che ha Tiago Motta nell'ottica della Juventus. Quarto punto è che Tiago Motta sa lavorare molto bene con gli attaccanti, sa lavorare molto bene con i giovani, e la Juve di questo ne ha tremendamente bisogno. La Juve ha bisogno di un allenatore che sappia rapportarsi con i giocatori da pari, è stato un grande ex giocatore, un grande giocatore a suo tempo, Tiago Motta, e quindi io credo che lui sarebbe in grado di calarsi all'interno di uno spogliatoio delicato come quello bianconero e di dare il suo contributo in maniera significativa ed importante. Passiamo ora ai contro. Il contro, a cominciare da Antonio Conte, è appunto uno dei pro anche, il fatto che sarebbe una minestra riscaldata, da una parte basta con questi ritorni, anche se è Conte, ma già l'Allegri Bissi non ha portato bene, il Pogba Bissi non ha portato bene, i ritorni non sempre servono, in questo momento per la Juve, secondo me, sarebbe meglio avere un volto nuovo. Nonostante non mi farebbe assolutamente schifo Antonio Conte, però, sinceramente, è anche ora di cambiare, dai, basta. Cambiamo l'allenatore, cambiamo, diamo una svolta, un volto nuovo. Quindi ecco, questo secondo me sarebbe un contro. Un altro contro che Conte spreme i giocatori, li spreme fino al punto di farli sfinire, magari tira fuori tutto in due o tre stagioni, ma poi rischi che i giocatori si sfascino, perché ha fatto così alla Juve, ha fatto così anche all'Inter, sono i giocatori, lui li porta oltre il limite, e come rendimento nella singola stagione va benissimo, però sul lungo potrebbe essere un po' degradante. Un altro contro di Conte è quello che comunque ha esigenze molto alte nei confronti della società, ed è vero che uno può dire che è un pro, però è il classico che ti lascia a inizio del ritiro, che a metà stagione le cose non vanno come dice lui, le scelte non sono come dice lui, prende e va via. Quindi può anche essere un contro, e alla Juve ci vuole molta pazienza quest'anno, ci vuole molta pazienza secondo me. Quindi questo potrebbe essere un contro, e poi l'ultimo è che in Europa non ha dimostrato nulla per adesso, io da Juventino voglio un allenatore europeo, e a differenza di Tiago Motta, Tiago Motta non ha l'esperienza di Conte, Conte nelle sue avventure europee, sì, nella finale di Europa League, ma comunque è persa, nella semifinale di Europa League, addirittura con la finale in casa con la Juve, è persa malamente. Insomma ha un po' di, secondo me ancora di gavetta europea da fare, o comunque da dimostrare. I contro di Tiago Motta quali sono? Io francamente ne vedo pochi, perché sì, può avere poca esperienza, ma alla fine anche l'Ippi quando è venuto alla Juve non ne aveva moltissima. Quindi io sinceramente i contro dell'affare Tiago Motta non li vedo, penso che sia la figura giusta, forse l'unico contro è che non è un allenatore internazionale, magari non è il Klopp di turno, ma non tanto per il parmares di Klopp, ma è un allenatore che ha allenato solo in Serie A, però ha giocato anche all'estero, ha giocato in giro per l'Europa Tiago Motta, quindi ha vinto una Champions League, insomma, la parentesi con la nazionale italiana lasciamo perdere, però da quel punto di vista lì, io veramente di contro dell'affare Tiago Motta non ne vedo molti, alla fine il tifoso juventino, la Juve di cosa ha bisogno? Di un volto nuovo, un allenatore giovane, un allenatore che sappia lavorare con i giovani, un allenatore che non abbia paura di giocare a calcio e di impostare la propria filosofia e chiaramente deve avere le spalle larghe, perché la panchina della Juve, con tutto rispetto, non è come le altre, è una panchina importante, e la Juve ti perdona poco. Questo diciamo era un po' il mio pensiero su Conte e Tiago Motta, il pro e il contro, ho provato a buttarveli lì un po', diciamo così, uno dietro l'altro, fatemi sapere anche voi con un commento qui sotto che cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, io vi do appuntamento in un prossimo video, vi rinnovo l'invito di nuovo di mettere vi piace se il contenuto è stato di vostro gradimento, una buona serata a tutti.